Questa. Into tre Ragnaros. Into questa. Quanti danni sono però, man. È l'Ital? Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia, ciò, ok, bello. Finalmente è un mazzo bello. Questo è un mazzo bello. Voglio giocare un mazzo bello divertente in culo? Gioca questa cosa qua. Gioca questa cosa qua. Gioca sta cosa qua che è bellissima, è stupenda, è assurda. Questo è un bel mazzo. Questo è un bel mazzo. Diventi stupido, però è bellissima. Ciao, andiamo di Nuovo Nature. Comunque sì, l'Eylander Warrior ha la combo con i, con i, sì, con Zilliax, con Branna e la combo dei, dei quattro Zilliax che evochi che vanno faccia, pushano danni, sì. È ok, è ok. Più che altro quel mazzo lì ha anche la combo con l'ottomana che distrugge il mazzo. Quindi per quello che è solido, perché solo con la roba lì non basterebbe. E io direi che vogliamo hard maliganare per altro. Cioè questa roba fa abbastanza schifo. Insomma l'opo non si aspetta mai quello che siamo. Wow, abbiamo l'insetto, abbiamo l'insetto. Questa roba è assurda. Vediamo se sto mazzo effettivamente ha senso di esistere oppure no. Sono curioso. Oh. Forte quello lì, bastardo, pezzo di merda, stronzo in culo. È da fare dardo, è da fare dardo. È da fare dardo, chat. Insane ma è da fare dardo. Se lui sto turno non fa nulla facciamo... Oddio, lui gioca una lista figa. Il tipo gioca una lista veramente figa. Coin in realtà in questo mazzo con l'insetto che alla fine... Questa non me la discanto perché fuoco. Vi dirò che ci sta pure chi pare il coin. Non è coin questo, che poi alla fine muore. Non ha senso. Vediamo un attimo. Ragnaros, mio padre. Comunque lui gioca una lista di mage. È proprio la lista di mage che giocherei. Se dovessi giocare mage, giocherei la sua lista. Sincero. Poi dopo una partita ce la facciamo. Riflessi? Prendo un più uno o più due. È forte il più uno o più due. Bro, c'è nel senso... Ok. Ok. Un guard. Ok. Uh... Boh, semplicemente andiamo di lampo, andiamo di cercatore. Vediamo un attimo cosa pesco. Non è che abbiamo la combo incredibile adesso, ma va bene così. Bella star. È il primo game che faccio. Fammi un attimo testare il mazzo. Cioè, è letteralmente il primo game che faccio. Vorrei un attimo vedere come gira. Beh, lo TK con Ragnaros sarebbe molto figo. Ma in realtà il concetto del mazzo è molto figo. Perché alla fine abbiamo modo per rimuovere la board nemica. Quindi... Con le Crash of Thunder, con... Ma poi in realtà potremmo anche farla combo vecchio stile. Questa potrebbe essere molto probabilmente Count Spell. Probabilmente Coin ormai mi serve a poco, in realtà, direi. Possiamo testare con Coin. Non è Count Spell. Cosa mi dai, piccola? Un'altra? Un'altra? Forse è il Tagliacactus, per pescare. Cioè, col... Col... Col pop-up... Eh, però mi serve anche la... Devo andare anche in Overload per giocare la 1-mana. Potremmo in realtà giocare... Prendere anche questa, fare dardo lì, giocare la cavalca plusso... E chiudere con la lampo. Se me è una play, ok. Andrei di questa, così almeno cerchiamo la... La cosa che mi serve. Andiamo semplicemente così. Andiamo di cavalca. Ok, conduttività è quello che volevo. Boh, chat, in realtà potremmo anche overstandere. E andare prossimo... No, prossimo turno no, perché siamo uno in Overload. Cioè, se rifaccio questa posso andare. Ma io direi che posso anche aspettare un turno. Posso fare la valutatrice e vedere un attimo. Poteva anche giocare la seconda e andare e partire di combo. Ma direi di aspettare un attimo. Prossimo turno partiamo. Lui non ha mai lethal prossimo turno. Quindi direi che è abbastanza fine. Non credo giochi cult o roba... Cult o roba del genere. Cioè, è mage, perché dovrebbe giocarlo. Prossimo turno andiamo di lei, andiamo di una lampo. Potrebbe essere fine. Potremmo fare un discover di qualcosa. Perché mi serve roba per rimuovere questo, no? Nice. Direi che è molto forte il rombo. Forse... Sì, no. Sempre. Cioè, senza il forse. Che schifo questo. Questo fa abbastanza schifo. Va bene. Allora, teoricamente noi in prossimo turno abbiamo una roba molto forte. Abbiamo una roba molto forte qua. Allora, questo è un barzzi in realtà. Soltanto che in mezzo c'è anche la spela 5. E conduttività. Questa è l'idea del mazzo. Non lo so se funziona o no. Onestamente è il primo game che facciamo. Quindi volevo un attimo provare. Vediamo un po'. Però sembra promettere... Bene. Nel senso... Ok. Ok, lui ha paura che io abbia l'Ital. Che mal che ha flusso. Allora. Partiamo di questa. Nice. Direi che abbiamo discoverato molto bene. Direi che semplicemente facendo... Così. Poi abbiamo... Questa. Intu tre Ragnaros. Intu questa. Se mi dai dei danni... Quanti danni sono però, man. È l'Ital? Oddio, non ho con... Shot. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Ok, la lista sembra carina. La rinascita di un bel... Di un bel Nature Shaman è sempre piacevole alla fine. Dai. Ma perché è un mazzo schillato alla fine? Allora, in Aigilo è fastidioso. In Aigilo è stra fastidioso. Però se lo giochi a rank tipo... Gallina. Cioè, rank schifo. Per me è stra divertente. Stra divertente. Abbiamo un turno 2 solido. Ma anche lei. Direi di chi pare così, in realtà. Siamo di nuovo contro mage. Cos'è oggi? La sagra dei mage? Il fatto è che noi per la combo bisogna trovare sia la spell A2 che lo fa sui adiacenti. Sia la spell A5. È per quello che... Vediamo. Quanto è chiuso su EU? Non ho giocato perché dopo sono sceso giù. Pasqua. Non lo so. Non credo sui 200. Non lo so. Non ho giocato. Però la notizia buona, chat, è che ho fatto il per 11 in America. Cioè, non pensavo. Perché in realtà ero tipo... Non è che sono una pussica. Non avevo tanto tempo per giocare. Ho preferito fare il per 11 almeno in America. Infatti ho giocato un po' e... E sono riuscito... E sono riuscito invece a... Avere il per 11. Se non è male. Beh, non giocheremo mai la cosa. Probabilmente. Devo meditare. Ok. Bacchettaia. Bacchettaia. Oh! Kifar. Kifar sembra una malattia. Kifar non vorrei dire che malattia sembra. Però sembra una malattia. Credo che chiunque possa arrivarci. Ah... Sembra... Sembra una malattia. Kifar. Oh no! Ha evocato il Kifar. Oh no! Oh no! Ok. Probabilmente giochiamo la... La libro lo stesso. Probabilmente il coin lo giochiamo. Ah... Facciamo prima lui. Magari mi pesca... Una lightning bolt o un qualcosa. Ehm... Poi facciamo... Vediamo. Massimo facciamo coin libro. Ok. Direi di fare così. Almeno si buffa anche lui. Non è male. Non è male. Bella Mickey! Bella! Come stai bro? Come stai? Come stai cucciolo? Forte! Forte! Prossimo turno abbiamo una tremana molto solida in curva. Vediamo un attimo il tipo. Bello. Ma io lo sapevo che... Sarebbe morto magari il mazzo e la lista vecchia. Però una lista nuova sarebbe nata di... Di sciamano. Molto figo. Che poi non... 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 Non si aspetta sicuramente quello che... Sta per arrivare. Sono in Europa, chat. Sono in Europa. Quello lì dovremmo rimuoverlo. Quello lì dovremmo rimuoverlo? Perché dà parecchio fastidio. Si fa armor. E che non posso. Direi se bisogna di fare la valutatrice. Eh cazzo. Ti fai un po' di armor ma... Va bene. Boh. Lampi. 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 No è interessante. È interessante sta roba. Bisogna un po' capire. Bisogna un po' capire. Comunque se... Se hai la lista padre del rogue che stavi dicendo che mi avrebbe fatto vergognare della... In generale della mia vita. Puoi passarlo volentieri. Lo guardo. Oggi è una bella giornata in realtà. Quindi è difficile che tu riesca a rovinare la mia bella giornata. Cazzo mi manca solo una carta. E se no noi qua letteralmente abbiamo la combo. Ma in realtà abbiamo quasi quasi la combo vecchia. Nel senso... Questa è la cosa bella di questo mazzo. Probabilmente partiamo di bacchettaia. Andiamo di lampo. Eh... In chill. C'è un lampo io lo gioco sincero. Vediamo bacchettaia cosa mi dà. Sovraccarico. Potremmo scambiare. Probabilmente lo scambio è la cosa migliore. Così cerchiamo in qualche modo di trovare la... 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 La spela a due. Perché a me manca la spela a due qua chat. La conduttività mi manca. Mi manca solo la conduttività. Preverb. Oh cazzo. Inizia a farsi un po' di armor. Il tipo però ha tre card. Vabbè mage in realtà è aggressivo anche con tre carte. Porca troia. Bastardo. Pezzo di merda. Probabilmente facciamo un turno un po' più moscio. Cioè o letteralmente trovo quello che mi serve. Non l'ho trovato. Potremmo fare una reflex e cercarlo in realtà. Potremmo fare una reflex. Pop up. che lo faccio. Che lo faccio. Vabbè no. Sicuramente qualcosa troviamo. Sicuramente qualcosa troviamo. Probabilmente andiamo di una rombo per distruggere Divine shield. Oh che lui le Reverber Le ha giocate Quindi anche se giochiamo I Ragneros così Per lui saranno molto difficili A rimuovere Probabilmente Sguardo lontano Sì Boh Fanno tutti abbastanza schifo Devo dire ma Sguardo lontano Sembra quella roba Che fa meno schifo Reflex Bro porca miseria Com'è possibile sta mano Come cazzo è possibile sta mano E com'è possibile che Cioè chat io vado di lampo Cioè io dai Prossimo turno Dovrei fare delle cose assurde Io doppiare Ok 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 Il nuts chat Ok il nuts Ok va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene man Ma è ancora in standard La spell del mage Che fa prendere Un colpo Un colpo alla volta Non mi ricordo Comunque lui ha letteralmente Preso il miglior pick Che poteva prendere Stava giocando letteralmente Al top deck Ha preso il top deck Di book E ha preso il top deck Di piscare 4 carta Con queste 2 Che mi sembra Abbastanza forte come cosa Cioè noi stiamo Per fare una roba Veramente figa Però mi pare Che anche lui Abbia avuto abbastanza Abbastanza da dire Vediamo Ma direi che Cioè sta roba è assurda Sta roba è veramente assurda Boh andiamo prima di conduttività Vediamo cosa dà Mmm questo fa veramente schifo Man Questo fa veramente schifo Di nuovo Poggers bro Assurdo eh Clamoroso Cazzo Cazzo Si fa un sacco di armor Che culo Che ha avuto lui Stiamo sfigando un sacco Dalle Dalle spellettine Abbiamo sfigato un sacco Noi Vabbè facciamo questa Facciamo conduttività La facciamo sui 1-1 E Vediamo Andiamo a fare dardo qua Andiamo a fare rombo Ma Molto male Devo dire Molto male Andiamo Sovraccarico Non riesce a far entrare nel mazzo Perché vuoi giocare sovraccarico Noi prossimo turno Passiamo Non posso far nulla Naturalmente un turno passo O trovo overdraft Cioè Si no So che intende Ragazzo Questa carta qua L'overdraft E che Boh Cioè non so cosa togliere Sinceramente Se la trovo È tanta roba Però 6 mana left Lui Cazzo Non è semplice Rimuovere sta cosa Vedi lui sta cercando qualcosa Lui sta cercando il nuts Glifo Cioè comunque è difficile Rimuovere Triplo Triplo Ragnaros Non mi piace Non mi piace Ha piccato abbastanza In modo consapevole O consapevole di aver perso O consapevole di aver vinto Non lo so Non lo so Bella Dario Se non ti scioppi Se non ti scioppi Nel negozio La skin del DK Che letteralmente si chiama Darion Sei imbarazzante Sei veramente La persona più imbarazzante Che conosco Bella Fabio Cosa è successo? Man Ti rendi conto Che è one off Il ragazzo? Ah no Abbiamo la 2-4 Non è one off Hai vinto Hai vinto Hai vinto Hai vinto Hai vinto Hai vinto Ma Non sembra male Per ora Questa combo Demon Hunter Se batte demon Hunter Sono molto fiero della lista Se batte demon Hunter Sono molto fiero della lista Figa Sono uno sterminatore Di re e divinità Ehm Boh Due mana Sì Si può Chi pare Si può Chi pare Si può Chi pare Poin Lui Fortissimo Non so Non so se demon Hunter Riesce Andiamo Partiti bene Non è male Non è male Però non ha giocato Il due mana Che pesca l'arma Non ha giocato Il due mana Che pesca l'arma Magari non c'è l'alarma Spero Se l'arma in mano Molto male Vediamo lui Ok Il prossimo turno Dell'aiutante 5 insects E abbiamo il nuts Ha forgiato Lui è un Highlander Non ha giocato l'arma In turno 3 Direi veramente nuts Ok Direi la cavalca flusso Solo perché bisogna ciclare Il prossimo turno Posso fare il sapere Andare di cavalca flusso A cercare un sacco di roba buona Per la combo Per le cose Lui fa Inis Non è male la mano Non è male la mano Non è male nemmeno la situazione In realtà Cioè allora Chot Ma in realtà Non posso nemmeno Prenderla in culo Se mi gioca il 5 mana Che fa il damage Hanno cultrus Lì alle carte In mano Perché non ho carte Cioè la mia combo E con le spell Quindi sti cazzi Cavalcapussi Cavalcapussi Questa Oddio Conduttività Conduttività Si trova Dalle doppia Dalle doppie lighting reflex Ne abbiamo due Partiamo Oddio Non mi sento più sicuro Di me in realtà Non mi sento più sicuro Ma nel dubbio in realtà Noi abbiamo anche un sacco di danni Con libro Dardo Libro Tac 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 Abbiamo lo spell damage No Cioè direi che comunque È giusto partire Poi ci sono uomini Uomini Noi siamo uomini Forti Quindi partiamo Potremmo fare anche Una lighting reflex Tempo Per cercare qualcosa adesso Ma io direi Di partire Oh sì Oh sì Oh sì Oddio Sto per sborrare Cazzo Mamma mia 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 Non discover pazzi Incredibili Assurdi Senza senso Cos'ha demon hunter Ha qualcosa demon hunter Che mi può fare uscire Dai giri Oddio Avrebbe la Quick draw La tua prossima carta Costa uno In più E letteralmente Mi distrugge la combo Però Cioè Senso È una carta E poi Dai Che voglio vincere Di ragnaros Per quello Mi mette Poi magari In realtà Abbiamo l'ital lo stesso Però Che cazzo Ok 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 Dai Non ce l'ha Non ce l'ha Chat Ma tu ti rendi conto Che a turno 6 Abbiamo l'ital Scarta 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 Pupazzo Cut Damage Damage Reflex Sì Potremmo farlo Effettivamente qua Tanto dobbiamo Fare una lightning bolt Sul Lì Qua Più Pau Più Batto Va che roba Va che roba Va che roba man Va che roba Ma quanto soddisfacente Questa cosa Bello Forte Forte Spolliciate Youtube Spolliciate Bene Basta fare il coglione No può essere Può essere Ma non sono Di quelli che Che accusa di sniping Le persone Sti cazzi Se stava sniperando No Sincero Va bene Cazzo Cazzo Vabbè Porca miseria Dai Vi gioco qualcosa Di più divertente Ora Controte Monanter Potrebbe essere Poco divertente Come cosa Ma ok Qua abbiamo Una bella mano Bella Bomberale Porca miseria Bella Lack Dai Siamo partiti Bene Comunque No Non si concede Mai Infatti È una regola Del cazzo Che ho di concedere Non si concede Mai Ma perché Allora Perché io gioco Anche molto spesso A scacchi E sincero In scacchi Cioè Allora Se giochi In elo 400 Fino al 1500 Cioè Se sei sotto Di una regina Quasi quasi Non vuol dire un cazzo Perché l'opponent Può missare Può Blanderare una regina E Però se sei sopra Il 1500 Cioè Se sei sotto Di una regina Cioè Nel senso Non nemmeno Se giochi Hai perso Dai Cioè L'opponent O è veramente Stupido Oppure Hai sempre Perso Cioè capite È per quello Ed è letteralmente Stai allungando La partita Inutilmente E qui Vabbè Era letteralmente Un turno Quindi Sì Cioè Errore mio Errore mio Errore mio Bella Zodiac Cos'è lo spell Shaman E' voluto Questo Questo Sì Questo È il nature Shaman Un po' Diverso Ma di poco Di veramente Poco Minchia bro Che play Che gli sto Facendo fare Che play Che gli sto Facendo fare Bro Forca miseria Mi pare Che siamo Messi bene Cioè A turno 3 Bro Lui ha fatto Questo tempo Senza dare Più 3 Di attacco Per Tradarmi Io qua Faccio Dardo E gioco E gioco Lui Meno Continua 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 3 turni Che ti gioco I peschini Continua Penso E merda Emozioni Emozioni Di Tony Boy Adesso La metto Adesso La metto No Non Scammo Non Scammo Cazzo Bro Ziliax Adesso La mettiamo Cazzo Ziliax Devo Meditare Ma sapete Che io andrei Di un lampo Abbiamo Un bel turno Un bel turno Alla fine Anche se Non faccio La combo Con il tipo Incredibile Abbiamo Comunque Un bel turno Abbiamo Un bel turno Vediamo Ste canzone Emozioni Di Tony Boy Sapete Che non so Cosa Sta roba Emozioni Di Tony Boy Ma è La canzone Di un anno Fa Io non ho mai Sentito Ste cose Strane Emozioni Di Tony Boy Dardo Ma io direi Di pushare Un po' Di danni Faccia Se posso Se posso Permettermi Pusherei Qualche danno Faccio Beh uno Ma uno Mana pesco Un po' Una la keep Ma Dai Dai Va bene Cos'è Sta roba Ok c'ho la pubblicità Di youtube Eccolo Tony Boy Fuma Fuma la ganja Nel videoclip Molto male Non vedo Segni di usura Un po' Un po' alta Non so Non so Chat 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 Ti prego Lighting Lightning Leflex Dammi una rana Dammi una rana Piccolo Dammi una rana Cioè potremmo in realtà Avere pure l'ital con le spell Voglio farlo con lui Dammi una rana Ok abbiamo anche questo Ho il discover Ho una rana Cioè in realtà mi sa che O l'ital addirittura con le spell Ma Questo mi da rana Sì 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 Mi pare solido Non mi pare così Insolito Sì